allora mettiti in guardia Anthony stai fermo lì tira forte no evita le gambe con lui vai al busto vai vai al busto vai con i pugni o i middle anzi no e stai attento perché ho paura per i gomiti vai proprio con i pulci e si no tu devi solo fare una difesa fluida i flow adesso osservate questo se lui è veramente in flusso lui viene spremuto perché lui assorbe energia ok vai tira proprio piega le gambe Anthony diventa un muro da notare che lui ha già perso il flow da notare che entone in flow e adesso l'altro l'ha perso perché entone è andato in up e lui Mirko si chiama Nicola Nicola è andato in down come ti senti ma lui è passato nero Roby attaccalo perché lui va sempre in allenamento perché non è in grado di gestire eh si è attacca attacca no 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 non schivare Anthony tu devi stare lì fermo mi fai sacco papi a me dai oh tiri o no dai Roby stop come li senti i colpi togli il flow senti che oh sentite che cambia il suono come sono avete sentito che cambia il suono invertite prendi tu adesso tutti i due in flow da notare che Roby sta ricevendo benissimo eh stop come sono li senti meno di prima che lo togli il flow no eh cazzo l'ho detto a lui l'ho detto a mi dai stop come sono Roby chi vuole fare il cambio dai sotto un altro cambio coppia fuori da qua però cambia con un altro andate fuori di là voi due se volete provare fuori tu ok guarda c'era anche lui che è arrivato subito pronto falli provare lui due oh se volete mettetevi anche a coppie voi che provate dai via chi tira ok vai tutti i due in flow non scappare non scappare non scappare non scappare tira forte dai stop stop togli il flow stai fermo stai fermo e tu tira forte ma preciso eh buoni ragazzi buoni parlate Roby oh vai vamos vai con il middle anche forti ok tira forte dai solo middle forti oh vai più forti dai top ok adesso è in flow buono togli il flow tu ripeti le stesse azioni attento adesso stop come sono? si spreme a livello di impatto quando senti lui in flow eh aspetta no adesso si faccia una bella osservazione quando lui è in flow e riceve in flow ti spreme? eh sì no ok senti che ha un impatto diverso comunque e adesso ti sentivi più forte? confermi tu? si si è molto vai prova con Bruno che vuole provare anche lui con Giulia vai 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 Grazie a tutti.